No, sicuramente un giocatore conosciuto che conosco già del championato tedesco che seguo anche abbastanza. C'è un giocatore connu, io lo conosco, c'è un giocatore che ho già suivito in Allemagna. Un giocatore con tanta esperienza, con 30-31 anni compiuti, sicuramente un giocatore di valore. C'è un giocatore con l'experienza, con 30 anni, che ha un vécu sul plan sportivo. Il è sul radar e la porta, come per tutti i giocatori, sarà sempre aperta. Il è nel radar, nella lista e la regia e c'è un giocatore che sarà guardato e la porta è tutta overta. Solo in questo momento ho optato per altre soluzioni come ho specificato anche prima. Solo che questa volta ho optato per altre soluzioni come ho già detto auparato. Grazie a tutti.